Cambiamo argomento a Sulmona, continua il momento Clooney. In città è tornato George Clooney per le riprese del film L'Americano e come era successo un mese fa a Sulmona il traffico è andato nuovamente in tilt. Fans scatenati alla ricerca di una foto, magari di un autografo, ma questa volta il set è blindato e lo stesso Clooney appare restio a concedersi alle sue ammiratrici. E' emozionante perché comunque è una star hollywoodiana, però ecco in quanto a bellezza è un bell'uomo, non è insomma il ragazzo che potrebbe far impazzire. Di Clooney siamo riusciti a girare solo pochi secondi, sono quelli che vi mostriamo. Il servizio di sicurezza questa volta è stato davvero intransigente, impedendo qualsiasi tipo di ripresa, impedendo qualsiasi tipo di ripresa. Anche la moglie della controfigura della star ha cercato in vano di vedere l'attore di Hollywood. Non ho avuto ancora modo di vederlo, effettivamente mio marito, io sono la moglie della controfigura, o stand-in come lui si definisce, però non ho avuto ancora effettivamente modo, ma neanche di vederlo da lontano. Cerco in tutti i modi, ma non mi è stato possibile. Anche oggi sono qui per poterlo vedere, ma è impossibile. Spiro che almeno questa sera, entro la giornata, mio marito possa farmi avere l'onore di conoscere questo personaggio. Le riprese continueranno nel capologo Peligno fino a lunedì prossimo.